Amici di Calcio Napoli 24, siamo qui ospiti di Movistars Plus e del collega José Ballarrañaga che è un conduttore, famosissimo conduttore di minuto zero, fra poco dovrà andare in Ondra quindi gli rubiamo giusto dieci minuti, come va? Molto bene, molto bene, c'è Madrid una città stupenda, si avvicina una partita molto importante hanno parlato Modric e Zidane in conferenza stampa, hanno parlato del Napoli con un certo rispetto con un certo rispetto, però domani puntano solo alla vittoria Si, è normale, il Madrid sempre che juega punta alla vittoria, però cuidado a questa eliminatoria con il Napoli perché il Madrid sta ganando molti partiti, però non sta jugando bene al fútbol Non è chiaro qual è l'estilo di gioco, il modello di gioco che vuole implantare Lo che passa è che hanno giocatori di tanta qualità che solo loro si bastano per ottenere un partito con una delantera con Cristiano e Benzema e poi dietro Luca Modric e Toni Kroos e tutti gli altri è evidente che è un gruppo che ha molta pegata, però io credo che c'è un certo temor al Napoli per questo partito perché è un gruppo che sape giocare contro i grandi, che sape desenvolvere bene nei momenti importanti della temporada e mañana si marca un gol, cuidado, che può poner in peligro l'eliminatoria per il Madrid Sì, uno Zidane che ha fatto qualche cambio tattico nelle ultime partite, non sembra essergli andato tanto bene però un Real Madrid che continua a vincere, un Real Madrid che domani affronterà il Napoli giustamente rispetto ai partenopei che se riusciranno a segnare al Bernabeu potrebbero essere molto pericolosi nel discorso qualificazione che poi si disputerà al San Paolo Zidane ha parlato anche di Sarri, del suo collega Azzurro e ha detto è un allenatore che sta avvicinando il calcio italiano al calcio spagnolo ti sembra una definizione giusta? Sì, io credo che sì, io credo che sì, perché è che la forma di gioco si sta asimilando bastante antes era, había muchas más diferencias, no? entre el fútbol in España e il calcio, no? perché era il fútbol italiano, il calcio era un fútbol más reservo, no? más de defender e buscar la salida con gente come Sarri precisamente io credo che ha dato un salto qualitativo, no? e la selezione italiana nella ultima Eurocopa aveva bastante che vera con Conte e con Prandelli anteriormente, no? quindi io credo che sì, abbiamo evoluzionato bastante e ora hai bastantes más similitudes per questo mi sembra che il Napoli può essere un equipo più pericoloso ora che fa 4 o 5 anni un Napoli che può essere molto pericoloso adesso più di 4 o 5 anni, 4 anni fa perché grazie al lavoro di Sarri si sta avvicinando il calcio italiano al calcio europeo il calcio italiano che era famoso per il catenaccio e contropiede la zona Cesarini la zona Cesarini, il gol all'ultimo minuto adesso si sta evolvendo grazie a Sarri si sta avvicinando al calcio spagnolo Modric ha parlato anche del suo compagno Bale che è stato ben tre mesi fuori per infortunio è tornato, si è allenato Zidane però non ha voluto svelare se sarà convocato o meno per la partita di domani ha solo detto che è tornato da una settimana si sta allenando bene, si sta allenando col gruppo è guarito però dopo un infortunio di tre mesi è giusto aspettare sì, io credo che non va a giugare io credo che non va a giugare perché anche Zidane per questo è un entrenatore che quando ve che un giugatore non sta al 100% fisicamente prefiere relegarlo al banquillo o alla grada e lo fa bene perché il Madrid ha una plantilla molto lunga ha molti giugatori che possono giugare se non sta Bale può giugare Lucas Vazquez se non può giugare Marcos Asensio se non può giugare Marcos Asensio può giugare Morata se non può giugare Mariano è una plantilla molto lunga ha 25 giugatori che possono essere a disposizione del entrenatore e che possono rendere a più quindi in questo aspetto io credo che almeno nel partito di mattina non lo vedremo in San Paolo può essere che sì Sicuramente non lo vedremo nella partita di andata domani al San Diego Bernabeu il Gallese si è ripreso però giustamente fa bene come dice il nostro collega Zidane a non rischiarlo dopo un'infortunità tanto grave con tanto tempo fuori dal campo anche perché ha a disposizione una rosa molto ampia 25 giugatori quindi non avrebbe nemmeno senso rischiarlo domani ma magari conservarlo per quella che sarà la partita del ritorno ha parlato anche di hanno fatto una domanda anche su Benzema se c'è un caso Benzema perché i tifosi fischiano Benzema Zidane lo ha difeso ha detto che è comunque un giocatore che si impegna dà tutto per la maglia e soprattutto sembra essere perfetto come compagno d'attacco di Cristiano Ronaldo domani potrebbe essere proprio lui che ha segnato solo due gol in Coppa quest'anno a sbloccarsi e a fare la differenza contro il Napoli Io credo che il problema di Benzema parte che è un problema di definizione perché che posizione è di Benzema è delantero centro? è il 9 goleador nato? no è il secondo delantero il accompagnante di un 9 nato a lo mejor sì però nel Real Madrid no è il accompagnante di Cristiano Ronaldo? sì a me è un giocatore che mi piace molto è un giocatore che elabora molto il gioco che aiuta molto in l'elaborazione del gioco al resto del equipi e che non è un rematatore non è un goleador nato quindi questa falta di definizione è la che sta provocando che ha aficionato a Stifosi che le piten e che non le guste e che non sia un gran goleador perché claro, encima ti ha parlato a Cristiano che marca 40-50 goles cada temporada e se tu marcas 20 che è un buon numero comparando con il di Cristiano se queda in poco quindi la confianza di Zidane in Karim Benzema è assolutamente ciega va a seguir apostando per lui sempre sempre che stia bene e io credo che maggiorni va a tener una nuova opportunità segura per a jugar Benzema è sicuramente un uomo su cui fai affidamento ciecamente Zinedine Zidane il problema probabilmente è di definizione cioè che ruolo ha Benzema nel Real Madrid se è una punta centrale non lo è non è un vero e proprio goleador se è un accompagnatore della prima punta forse di sicuro è un ottimo compagno un compagno di reparto per Cristiano Ronaldo ovviamente è un giocatore che per questa mancanza di definizione e di sicura posizione in mezzo al campo non viene tanto amato dalla tifoseria ma sicuramente domani potrebbe essere una grande opportunità per il francese di dimostrare tutto il suo valore come terminerà la partita di domani e chi passa il turno? è difficile è difficile però io credo che per il Napoli è fondamentale marcar se marca un gol anche per 2-1 o incluso 3-1 va a tener possibilità di passare la eliminatoria se non marca va a essere molto difficile va a essere molto difficile perché il Real Madrid lo più probabilmente è che marco maggiata e nel partito di San Paolo però a me mi piace una eliminatoria più uguala di quello che la gente può pensare perché è il Real Madrid è campione d'Europa e è il Napoli e la differenza può essere per ora importante però io credo che in quanto al gioco e perché c'è giocatori che hanno molta motivazione per la mattina i spagnoli che vamos a dire Pepe Reina o Albiolo o José Callejón due di loro hanno giocato nel Real Madrid e a me mi piace che il Napoli ha una molto buona plantilla io credo che sta più ugualata di quello che la gente può pensare e credo che i piccoli dettagli saranno i decidi questa eliminatoria sarà un eliminatore assolutamente equilibrato 50 e 50 saranno i piccoli dettagli quindi a fare la differenza quindi un risultato non me lo vuoi dire Paramagnana 2-1 o 3-1 2-1 3-1 per il Real Madrid comunque sembra che il Napoli segni al Bernabeu per il collega è l'unica vera possibilità del Napoli segnare al Bernabeu per passare il turno contro la corazzata contro la corazzata spagnola ti ringrazio veramente per il tuo tempo adesso lo lasciamo andare fra poco alla trasmissione grazie per essere stato con noi grazie mille ciao a tutti ciao amici di Calcio Napoli 24 ancora ospiti di Movistar e di Minuto Zero con noi Manu Garrido conduttore e collega di appunto di Movistar Plus si avvicina una partita importante domani si affronterà il Real Madrid del Napoli dopo 30 anni era il Napoli di Maradona però sembra che Maradona anche oggi rubi le prime pagine di tutti i giornali si si mira acaba di declarare Luca Modric il jugatore del Real Madrid che meno male che non juega Maradona e che solo sta in la grada si come dices è un partito molto importante è un partito histórico in Madrid se conosce che il Napoli sta attraversando un buon momento di forma si sape che ha perduto esos 4 partiti in Octubre che sta in un momento molto buono ovviamente il match l'importante è che comunque non scenda in campo contro di noi Zinedine ha parlato anche Zinedine Zidane ha parlato di Maurizio Sarri ha fatto i complimenti al suo collega che fino all'anno scorso allenava il Napoli poi prima l'Empoli insomma in categorie inferiori insomma un bel attestato di stima da parte di un ex giocatore importante ma anche un grande allenatore che già ha vinto una Champions l'anno scorso verso il suo collega si hombre Sarri il valore di Sarri è molto evidente e su marcha in Italia la conosciamo tutti ha generato dopo di questo problema con la lesione di Milic che è un delantero come sapete molto importante il polaco per voi ha encontrato soluzioni a esa baja importante è un entrenatore capace di aver situato a Mertens in esa posizione di aprovechar ese momento di forma di José Callejón di Hamzy che è un giocatore molto importante però se le valore molto è un entrenatore che magari qui teniamo la idea di che era più defensivo però no la realtà è evidente che non è un entrenatore molto ofensivo molta gente di ataque i centrali Coulibaly e Raul Albiol sappiamo che hanno migliorato molto come parella Reina è un buon portero Isag è un lateral molto largo sì io credo che il calcio è una competizione molto discutita molto apretata e Sarri con il Napoli sta dimostrando un livello molto alto si sta dimostrando di essere un allenatore di altissimo livello qui tutti sanno il tragitto che ha fatto fino ad arrivare a giocare una partita una partita tanto importante spesso alcuni non conoscendolo prima pensavano facesse un gioco molto difensivo in realtà è un gioco molto propositivo in tutti i settori sia in attacco come a centrocampo come in difesa dove Coulibaly Albiol sono migliorati tantissimo sia come intesa sia singolarmente e poi quella mossa di trovare un nuovo ruolo a Mertens una volta che si è fatto male Milik che è rimasto fuori tanti mesi ritrovare il Belga in attacco che riesce a fare tantissimi di gol il Belga e Mertens in uno stato di forma straordinaria quasi ha la stessa media di gol di Guain del anno scorso Claro sabemos che la marcha di Guain seguramente vosotros lo sabéis mejor che nosotros fu una una marcha molto importante però anche il dinero recaudato ha servito al Napoli per essere molto più forte e è vero che quando si è un gioco come a la Juve si può pensare che la baja è molto importante però il gioco ha reaccionato molto bene come tu dici migliorando ese nivel esa media di gol e è lo che ti dice antes esos 3 jugadores di ataque in ninguno di loro è una super referenza di un tanque di un delantero clásico di italia o di spagna ninguno è Luca Toni o Mario Gómez però sono molto hibili sono molto hibili tira molto bene le diagonali José Callejon Mertens Hamzik e creiamo per la esperienza della Liga che ese tipo di gioco sono que daño le facen al Madrid gioco intelligente rapido che permutan le posizioni esos jugadores facen daño a qualche equipo però equipos che van all'ataque come il Real Madrid e che in la defensa deixano espacios ahí creiamo che è dove il Madrid ha il principal miedo per il partito di mañana Si un tridente offensivo breve linee molto rapido molto intelligente che può mettere in difficoltà il Real Madrid che anzi soffre in particolare queste questi mini attaccanti possiamo chiamarli così l'addio di Higuain è stato molto pesante soprattutto anche per chi è andato ai rivali della Juventus però Sarri è stato bravissimo la squadra è cresciuta in totale e addirittura riesce ad avere una media realizzativa superiore a quella che aveva con Higuain l'anno scorso l'ultima domanda molto sicca come finisce la partita di domani e chi passa il turno non so che pasara sinceramente non so che pasara è vero che Zidane ha parlato di 50 e 50 io credo che è favorito il Real Madrid io credo che è molto obbio però io credo che sicuramente maggiana il Napoli sarà gol il Napoli sarà gol quasi seguro lo che passa che il poder ofensivo del Real Madrid è molto grande sabemos che non sta Gareth Vail però i centrocampisti stanno aportando molto sia Lucas Vázquez sia Isco Karim Benzema non sta attraversando un buon momento però il gioco le protege e si hemos visto che Luka Modric che è il jugador fondamentale in lo creativo non sta bene perché viene della lesione e nel partito ante contra Osasuna la giornata pasada en Pamplona se vio che le faltava un pochito di ritmo io credo che va a essere un partito con goles bastanti goles per essere liga di campeone però credo che il Napoli sarà capace di marcar e credo che il éxito del Napoli sarà che la eliminatoria non quede sentenciata non quede finita para che nel partito di volta tenga opzioni perché il Madrid sabe che jugar in Italia in ese stadio che tenéis va a ser complicato io creo che il Madrid è favorito però il Napoli è un gran equipo e di Madrid favorito però il Napoli è sicuramente una grande squadra e merita rispetto quindi potrebbe passare presumibilmente il turno del Real Madrid ma occhio al Napoli che quasi sicuramente riuscirà a segnare al Bernabeu quello a cui aspirano gli azzurri e di rimanere in partita per la gara di ritorno anche perché al San Paolo ci sarà un ambiente spettacolare una grande festa di calcio con tanti tanti tifosi azzurri che spingeranno il Napoli verso l'impresa ma occhio anche all'attacco del Real Madrid che con uomini come Lucas Vasquez Benzema anche se manca Bell magari ci sarà il ritorno è un centrocampo che costruisce tantissimo anche se il Napoli dovesse segnare insomma anche il Real Madrid saprebbe come far male al Napoli sarà veramente una grande festa intanto ringrazio Manu per la tua ospitalità grazie grazie a te ti lascio al tuo lavoro grazie per il tuo tempo grazie a tutti grazie